Brucia la Terra parla dello scioglimento dell'amministrazione comunale di Foggia e di che cosa è successo dopo. Quindi la situazione politica e come è stato gestito il commissariamento e soprattutto anche le numerose inchieste di polizia che sono state fatte sul territorio dopo che l'attenzione nazionale è arrivata sul territorio foggiano. Da dove è arrivata l'idea? L'idea è arrivata leggendo un provvedimento pubblicato in Gizzetto Ufficiale da parte del Ministro di Interno Piante e Dosi che ha prorogato lo scioglimento. Lì ci siamo domandati, era già passato un anno e mezzo dal commissariamento, ci siamo domandati a che livello fosse la situazione lì e soprattutto abbiamo percepito la necessità di raccontare un territorio che è stato poco raccontato almeno dal punto di vista di una video inchiesta. Abbiamo letto articoli di giornale, abbiamo visto sfilate e passarelle da parte dei politici però sentivamo la necessità di raccontare cosa è Foggia, cosa significa oggi vivere a Foggia attraverso testimonianze, documenti e tant'altro. Voi avete scelto la video inchiesta, siete andati con una telecamera a raccontare, a raccogliere storie. Com'è stato appunto andare in giro per il territorio? È stato difficile perché anche raccogliere le testimonianze stesse perché comunque c'è parecchia paura da parte della popolazione quindi anche trovare qualcuno che ti rilasci una testimonianza di una tentata estorsione, di un'aggressione o che ti racconti comunque quanto sia compromesso il territorio è comunque difficile. Abbiamo comunque trovato tanta disponibilità da parte delle forze dell'ordine ovviamente che hanno partecipato a numerosissime operazioni antimafia nell'ultimo anno però ripeto non è stato facilissimo. Però tra una difficoltà e l'altra qualcosa a casa speriamo di aver portato. In questi mesi avete lavorato con un sostegno del premio Morione in particolare di un gruppo di tutor. Vorrei capire come sono andati questi mesi di lavoro come avete approcciato quindi proprio all'inchiesta. Innanzitutto dico che il premio Morione è imprescindibile di portare a termine un lavoro di questo tipo. Cioè oggigiorno conosciamo bene le difficoltà di fare un lavoro autoprodotto da freelance e il premio ti dà quel sostegno sia economico che a un certo punto da un punto di vista importantissimo visto che comunque c'erano tante spese da pagare ma anche appunto un tutoraggio, un sostegno. Il nostro tutor Enzo Nucci l'abbiamo incontrato tantissime volte sia prima e post e trasferte che abbiamo fatto e al suo lavoro si è giunto anche quelli dei vari tecnici. Insomma ci hanno seguito per le musiche, per un tutoraggio legale anche che è molto importante e insomma imprescindibile.